No, però sicuramente sì, perché credo che gli Inzaghi siano molto fortunati. Al di là di tutto, delle loro qualità sono nati sotto una buona stella. Siano due ragazzi fortunatissimi, che tutte le circostanze le portano sempre a avere grande fortuna, le grandi chance che magari non tutti hanno. E loro sono, al di là delle loro qualità, molto fortunati, a livello sportivo parlo. Gli gira sempre tutto per far sì che poi abbiano la chance che magari tante altre gente non hanno. Ma anche il mancato contratto di Prandelli ha portato sì ad avere la stessa squadra. Queste sono cose che poi sta meritando. Non voglio dire che non merita, che non sia bravo, perché Simone Inzaghi sta dimostrando di essere molto capaci. E gli auguro, gli faccio un grasso in bocca al lupo. Però allo stesso tempo è un ragazzo molto fortunato, come lo è suo fratello. È difficile dare un giudizio dall'esterno, credo che sia un giudizio non giusto. Comunque un allenatore che cambia modulo vuol dire che è un allenatore che ha una visione importante, futuristica. Vuol dire che sa adattare la squadra comunque a diversi aspetti tattici. E quindi è sintomo anche di un allenatore propenso a cambiare anche durante le partite. Quindi questo può portare a qualcosa di positivo per il proprio club.